Ciao ragazzi, ciao ragazzi, oggi rifaccio il video tag summer tag, perché non avevo finito, non si sa perché durante il montaggio si perdono i pezzi, comunque cercherò di farlo, magari verrà un pochino lungo, voi cercate di rilassarvi, magari chiudete anche gli occhi, non è fondamentale, è importante che mi guardiate, ma che mi ascoltiate, che mi rilassiate, ho visto le domande dal canale di Velia, Velia, Black Moon ASMR, rilassati con il summer tag, visto che siamo d'estate si pensa alle vacanze e magari molti di voi sono già andati in vacanza o stanno, si stanno preparando per andare in vacanza, Allora iniziamo con questo video tag, pensando all'estate e alle vacanze, agli amici, al divertimento e al relax Iniziamo con la prima domanda Ti piace la stagione estiva? Spiega il perché della tua risposta Allora sì, mi piace la stagione estiva abbastanza Mi piace, ma non mi piace, nel senso che mi piace perché fa a volte caldo, a volte c'è un po' di venticello, si sta bene Ma ci sono delle volte che fa caldissimo, quindi vabbè, mi dà un po' fastidio il troppo caldo, non lo sopporto Però mi piace l'estate in generale abbastanza perché mi piace uscire, mi piacciono i gelati, le granite e quindi mi piace stare con i miei amici, anche se ne ho pochi Uscire, mettermi un bel vestito, truccarmi poco, mettermi il mio profumo preferito e rilassarmi, non pensare a niente, non pensare ai problemi Rilassarmi, questo mi piace, uscire soprattutto con il freddo, con l'inverno si esce poco perché appunto fa freddo Invece l'estate si esce tanto perché si allungano le giornate, quindi così, mi piace abbastanza Uscire, divertirmi, stare bene Poi che mese preferisci tra giugno, luglio e agosto? Allora dovrei dire luglio perché è il mese del mio compleanno ed è anche il mese in cui siamo adesso Tra poche settimane è anche il mio compleanno appunto Però mi piace di più tra giugno, luglio e agosto, non saprei scegliere Mi piace maggio perché mi sono sposata, ma anche perché c'è la primavera Però mi piace anche giugno diciamo sia abbastanza perché non fa tanto caldo Si sta abbastanza bene, però inizia ad arrivare l'estate, non è ancora estate ma a volte fa caldo, troppo caldo A volte fa caldo e si sta bene, una via di mezzo ci vuole Però luglio dovrei dire che è il mese del mio preferito perché è il mese del mio compleanno Però adesso sinceramente va veramente caldissimo e quindi non è che mi faccia impazzire Luglio e agosto come mesi Mare o montagna? Allora potrei dire entrambi ma io amo la montagna, amo il fresco, amo la neve, amo sciare anche da piccola sciavo Adesso non sono più capace e quindi direi montagna assolutamente, sì Però anche il mare non mi dispiace, è romantico alla sera con la compagnia giusta, con la persona giusta Sì mi piace sia il mare che la montagna, anche se il mare non sono una di quelle che sta tante ore al sole ad abbronzarsi Però per fare quattro modate e prendere un po' di sole poche ore ci sto Ma mi piace di più la montagna, il fresco, fare passeggiate, picnic, anche se ci sono gli insetti Non ci vado molto d'accordo con gli insetti Diciamo montagna perché la neve, per le case di legno, tutto in legno, le baite, i bungalow, mi piace La montagna, fresco, passeggiate la neve, è bellissimo Montagna tutta la vita ma mi piace anche il mare Qual è il momento della giornata che preferisci? Questa è una bella domanda Adesso Alle 10 non c'è nessuno nel condominio dove sono io C'è un relax, un silenzio Di solito se non registro video, questo la faccio le pulizie, come tutti i giorni Però Sentite, gli uccellini che cantano, che cinguettano Non c'è un filo di vento, tutto chiuso Gli insetti sono fuori Non mi danno fastidio Mi stanno lontano Va tutto bene Siamo tutti felici, contenti, stiamo tutti bene Diciamo che questo è il mio momento preferito Oppure alle 5 e mezza, 6, alle 7 di sera quando il sole va giù Cala il sole e arriva la notte Oppure proprio la notte è il mio momento preferito Adoro Certe sere no, ma certe sere sì, mi piace la notte Il buio, le stelle, il cielo, la luna Quando la luna è piena è bellissimo Sì, sono romantica, questi sono un po' i miei momenti Quando cala il sole viene un po' di venticello alle 6 di sera Che non fa più tanto caldo come alle 4 di pomeriggio che si cuoce Sì Soffre il caldo? Sì, parecchio purtroppo I 30-40 gradi non li sopporto Più di 25 Già io con 30 impazzisco, sto malissimo Purtroppo Qual è il tuo costume preferito? Allora, io non ho un costume preferito Ne ho uno e basta E' uno solo Però ve lo faccio vedere Anche se è semplicissimo, no? Pensate di... Vi faccio vedere chissà cosa Dentro questa pochettina Carina, carina Nera e grecia Elegante Ho messo le cuffie da piscina E' il mio unico costume Il mio costume è un semplice costume nero Con dei legaggi fucsia Dei legaggi, dei nastri fucsia Non lo so come si dice Questa è la cuffia per la piscina Se mi interessa Bianca e rossa Piccola ma carina Da mettere sui capelli Ecco Dicevo che c'era relax Ci sono i vicini che escono E fanno casino Dovrei anche uscire Ma non ho voglia Ti senti qualcosa? Ok Vi faccio vedere il costume Allora Solo la parte sopra Perché la parte sotto E' una cosa molto banale Anche la parte sopra E' banale Però vabbè Ne ho solo uno Scusate Anche i vicini devono parlare Quando parlo io Ok Ciao Scusate La parte sopra E' a triangolo E questi sono i cortini Fucsia Che vi dicevo prima Ne ho solo uno di costume Quindi non pensate Che Ne ho una collezione Come vedo in giro Ne ho uno solo Ne dovrei comprare Almeno un altro Così da fare il cambio Quando questo è bagnato Il dentro è bianco Vedete A triangolo E il fuori è nero L'ho preso in un negozio Gli articoli sportivi Quindi Niente di che Così Io voglio anche dirvi Non è che ho Un grande colteo Una quinta di seno Cioè una prima La seconda al massimo Quindi cioè Non mi interessa Ma è così Questo poi si lega Al collo E' fucsia Come la mia maglia Come la mia camicia Si lega al collo Spero si senta qualcosa Ma fa break sound Non sono capace a farli Si sente? Comunque carino Fucsia Mi piace il nero E fucsia Insieme come colori Questo è il costume Semplice e banale E poi Mi piacerebbe averne altri Costumi Ne è solo uno Questa è una mutandina Molto semplice Fatta così Vedete Solo nera Semplicissima Una cosa banalissima Vedete Con tutte queste righe Quanto l'ho pagato Questo costume Non mi ricordo Ma pochissimo 4 euro al massimo Però Visto che vado Che sto a casa Più che andare al mare Sto a casa Quindi il costume Direi che uno mi basta Ma se andrò al mare Quest'estate Anche se siamo già a luglio Chissà quando Se andremo al mare Quando andremo Ma chissà Se andremo al mare Comunque almeno Un altro costume Mi piacerebbe averlo Andiamo avanti Settima domanda Il tuo profumo estivo preferito Se puoi Mostracelo E produci dei suoni Con la boccetta L'avete già sentito prima E ne avete già sentito parlare Sicuramente In altri miei video Questo è Un profumo Anzi Un'acqua profumata Fantastica Zucchero a velo Della Sienne Da Lidl L'ho comprata Costa 1,99 euro E adesso Da oggi Di lunedì C'è neanche Di me Altra profumazione Rosa e frutti Mi sembra Top Ha un odore Di biscotti E' buonissima Per l'estate Me la sono sbuzzata Prima di fare il video Ed è una cosa Meravigliosa Provatela Ragazzi 150 ml Sa di biscotti Di dolcetti Buonissima Veramente Io per l'estate Adoro L'acqua profumata Water sound Provatela Mi spruzzo un po' E anche spray Vedete Fantastica Provatela Anche bello il packaging Poi piatto estivo Preferito Gelati Insalate Primaverili Mozzarella Pomodoro Mais Tonno Oppure Insalata di riso Insalata di pasta Quindi magari Wurstel Sottaceti Funghetti Carciofini Cipolline Carote Piselli Mais Mozzarella Tonno O simental Ma la simental Mi è passata la voglia Non mi piace più Mi piaceva quando ero piccola Che i miei genitori La compravano Adesso non mi piace Facciamo attenzione Ai cipi che compriamo Che non tutti sono buoni Cipi in scatola La carne in scatola No Non mi piace Poi I gelati Comunque Il mio piatto estivo Preferito Gelati Ghiaccioli Sempre Vestito O pantaloncini Dipende Per stare in casa A volte ho Un paio di shorts Fucsia Come la mia camicia Le ho comprate Sempre della Lidl Da Lidl E me li metto Ma per uscire Vestito O conna Plissettata Lunga Vino ginocchio Adoro Vestiti lunghi Stupendi Adoro Per uscire alla sera Soprattutto un bel vestito lungo E meraviglioso Cocktail preferito Potrei dire Il sex on the beach Ma sono Dieci anni Che non lo bevo E non sono Una che beve Tanti cocktail Preferisco Di più L'acqua O l'aranciata O i succhi Le granite D'estate Col caldo La granita Alla fragola O alla coca cola All'arancia Alla menta Se non è troppo forte No Ai cocktail Forti Con il rum Con la vodka Non mi piacciono Non sono Una Alcolista Amante Dei cocktail Alcolici Assolutamente No Un sambiter Ecco Un sambiter Mi piace tanto Fresco Rosso Mi piace Poi Discoteca O passeggia Da notturna Sulla spiaggia La seconda cosa Discoteca Ormai sono anni Che non vado più Mi è passata la voglia Tra virgolette Cioè se Ho una buona compagnia Dei miei amici Magari anche mio marito Visto che sono sposata Vuole venire con me A ballare All'aperto Allora Si può fare Ogni tanto Si può fare Ma al chiuso Adesso con questo caldo Non sopporto Al chiuso Non ce la faccio Però Non è che mi piace Più tanto Andare in discoteca Mi piaceva di più Prima Perché non sapevo Cosa succedeva Adesso Tra quelli che fumano Che bevono E fanno le risse Non mi piace Poi non si va più In discoteca Solo per ballare Ma per cercare Donne Uomini Per andare a letto Insieme Cioè non mi piace Questa cosa Vabbè Un altro discorso Ne riparliamo Se volete In un altro video E Allora Quindi Passeggia da notturna Sulla spiaggia Assolutamente Sì Questa cosa Sono romantica Scelgo quello Descrivi la sensazione Che provi Quando torni a casa Dopo una giornata Di mare Stanca Ma felice Voglia di O voglia di riposarmi Di farmi una doccia Perché so di Di mare Di salsetine È una sensazione strana Però bella Mi piace Anche se Sono tutta Con i capelli da lavare Tutti appiccicati Alla resta Che mamma mia Che schifo Che mi faccio Però è bello Sentirmi Sulla bella L'odore di sale Di mare Di acqua salata Del mare Mi piace Abbastanza Non sempre Descrivi la tua giornata ideale Relax 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 Niente ansia Niente pensieri brutti Niente pensieri negativi Belle persone Amici Veri Vicino Giusta compagnia La compagnia giusta Ci vuole sempre E Cosa vi posso dire d'altro Buona compagnia Ho già detto La salute Che è importantissima E poi Basta Vivere bene Tranquilli Felici Con i miei amici Con mio marito Con chi ho di fianco Con la mia famiglia Con tutti Stare bene Divertirsi Sia al mare In montagna Dovunque Si va Si deve star bene L'importante è quello Sia si deve star bene Di salute Sia si deve star bene Con le persone Che si hanno intorno E se si hanno Delle belle persone Delle giuste persone Una buona compagnia Tutto va bene Questo penso Non mi servono Delle gran cose Per essere felice E stare bene Cosa ti viene in mente Se pensi a ferragosto Amici Ingrigliate Caldo Api Insetti Questo Risate Hai mai guardato i fuochi D'artificio Seduta sulla spiaggia No Per quello che mi ricordo No Direi di no Non ancora Almeno chissà Se mai succederà Speriamo Sono romantica Quindi deve essere bellissimo Estate uguale Magia Beh Dipende sempre Dalle persone E da quello che succede Dalle persone Che ho di fianco O che avete vicino Perché se le persone Sono quelle giuste Vi fanno stare bene Allora l'estate Può diventare Non solo divertente Ma anche magica Se invece le persone Vi fanno Arrabbiare Vi fanno star male Uno Non sono le persone Giuste E due Non si starà mai bene Con una persona Che ci fa star male E quindi Non è un'estate magica Se si litiga Se ci si sta Se si sta male Non è bello Non è magico Quindi dipende Sempre da cosa succede Al mare In montagna O in generale In vacanza E con chi si è Questo penso Comunque Si sarebbe bello Se l'estate Fosse sempre magica E speciale Dice Settesima domanda Quali sono gli elementi Della stagione estiva Che ti fanno provare ASMR Allora Il suono dell'acqua Del mare Sicuramente Mi fa provare Relax E ASMR Anche un filo di vento Ogni tanto Mi scompiglia i capelli Mi rilassa Mi fa provare ASMR Poi I suoni Magari Dei Adesso ci penso Ci sono i suoni Dei Degli acchiappassogni In qualche ristorante In qualche locale Appena tu entri Tling Quel tling Quel suono Bello Particolare Mi fa provare ASMR Mi rilassa Mi piace E poi Un bel tapping Che sto facendo Mi piace Gli uccellini che cantano Mi fa provare Rilassamento Tranquillità Relax Soprattutto il vento E l'acqua del mare Direi La pioggia Ma se piove piano È meglio Perché odio i temporali Ultima domanda E state taggate Io non sono stata taggata Da nessuno E l'ho fatto Lo stesso Ciao Ciao